Progetto! Piagge torna a un torneo molto amato, visto che siamo arrivati alla nona edizione. Sì, esatto. Anche quest'anno Avis Piagge e Lubacaria Piagge hanno rinnovato questa collaborazione per una giornata, diciamo, 28 ore all'insegna dello sport e del divertimento. Il torneo inizierà sabato verso le 17 e terminerà verso le 21 di domenica. È sempre un momento di divertimento e infatti il connubio Avis e Lubacaria lo dimostra. Quindi alla fine della serata ci sarà un concerto, sempre per rinsaldare lo spirito di collaborazione del gruppo. Dove si terrà? Chi vuole venire a seguirlo? Come può fare? Allora, si terrà nel municipio di Piagge, che adesso da quest'anno è Terre Roveresche. Può venire in qualsiasi momento, sono aperti degli stand e, come dicevo prima, alla fine della serata ci sarà un gruppo musicale che allieterà il termine della manifestazione. Per informazioni vi potete rivolgere alla pagina Facebook 24 ore Piagge. Una cosa che volevo ringraziare, visto che il torneo dura giorno e notte, volevo fare un ringraziamento a tutti i vicini che purtroppo dovranno subire un pochettino di disagi, però li ringrazio vivamente. Ringrazio sempre tutti i volontari, Avis Piagge, Lubacaria Piagge e il comune di Terre Roveresche. Cosa importa chi vincerà? Perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.